Wilfred Bion è stato uno psichiatra e uno psicoanalista che ha elaborato un modello fondamentale per la comprensione delle dinamiche gruppali, quindi lo studio del gruppo, e ha contribuito all'apporto di innovazioni nella teoria e nella pratica psicoanalitica. Bion ha affermato la necessità di una sorta di visione binoculare dell'individuo, quindi una visione costituita dalla combinazione di due metodi complementari, l'analisi individuale e l'analisi di gruppo. Questa visione binoculare e quindi lo studio del gruppo era secondo Bion indispensabile per la comprensione completa dei fenomeni mentali. I fenomeni mentali presentano quindi un doppio aspetto, si manifestano nei due campi delle relazioni individuali e delle relazioni di gruppo. Bion cominciò ad occuparsi dei gruppi per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si trovò a dirigere un reparto di riabilitazione in un ospedale psichiatrico militare. Fu in quell'occasione che poteva osservare come la stimolazione di una attività di cooperazione in un gruppo, poteva determinare una attenuazione della neurosi nei singoli. Fu sempre in quel periodo che Bion creò la prima comunità terapeutica. L'espressione terapia di gruppo ha per Bion due accezioni. Si riferisce alla cura di un certo numero di persone riunite, in particolari sedute terapeutiche, e si riferisce al tentativo preordinato di far maturare in un gruppo delle forze che facilitano un'attività di cooperazione che, come abbiamo detto, determina l'attenuazione della neurosi nei singoli. Bion si avvalza degli sviluppi della psicoanalisi, in particolare del lavoro della CLEIN. Della CLEIN ha ripreso il processo di identificazione proiettiva e i processi mentali primitivi. Queste sono le parole di Bion riguardo alla teoria cleniana che troviamo nelle esperienze nei gruppi e altri saggi. Il lavoro che sto preparando e che spero di pubblicare mi ha convinto della fondamentale importanza delle teorie cleniane sull'identificazione proiettiva e sul rapporto tra posizione schizoparanoide e posizione depressiva, senza di esse dubito che si possa progredire nello studio dei fenomeni di gruppo. Quindi, cos'è che sostiene, in sostanza, Bion? Sostiene che l'individuo torni ad usare all'interno del gruppo alcuni processi mentali primitivi, che riprende appunto dalla CLEIN. Questi processi mentali primitivi fanno sì che l'individuo perda la sua individualità, cioè nel gruppo, accettando di far parte del gruppo, l'individuo perde la sua individualità a causa appunto di questi processi mentali primitivi che mette in atto all'interno del gruppo. Quindi il gruppo, a causa del fatto che l'individuo perde la sua individualità, si configura come qualcosa di diverso da una semplice somma di individui. Bion nomina spesso l'individuo trattando i problemi del gruppo e intende l'individuo come qualcosa in un certo senso opposto alla mentalità del gruppo stesso, anche se contribuisce poi a formarla. È importante sottolineare ora che il gruppo, secondo Bion, è essenziale per lo sviluppo della vita psichica dell'uomo. Quindi per comprendere la vita psichica dell'uomo è fondamentale lo studio del gruppo. Una vita mentale di gruppo è, secondo Bion, indispensabile per la pienezza stessa della vita individuale e per soddisfare quindi questo bisogno è necessario partecipare ad un gruppo. Nonostante sia indispensabile partecipare ad un gruppo, Bion osserva che all'interno dei gruppi si viene a formare un sentimento di frustrazione, il quale deriva dal fatto che il gruppo per sua natura non può che frustrare alcuni desideri soddisfacendone altri. Quindi si viene a creare un risentimento provocato dal fatto che nel gruppo si esprimono impulsi che gli individui vorrebbero soddisfare anonimamente. Quindi da una parte abbiamo i desideri che può soddisfare il gruppo e dall'altra i desideri che non può soddisfare e che gli individui vorrebbero soddisfare in modo anonimo. È nella mentalità di gruppo che Bion propone di cercare le cause per cui il gruppo non riesce a offrire all'individuo la possibilità di una vita più completa e non riesce a soddisfare quindi questi desideri. È sua opinione che sia proprio la mentalità di gruppo ad ostacolare il potere del gruppo di soddisfare i bisogni dell'individuo. Con mentalità di gruppo Bion intende il volere del gruppo, al quale i singoli individui contribuiscono anonimamente. Questo fenomeno della vita mentale del gruppo provoca all'individuo delle difficoltà per perseguire i suoi obiettivi. Per affrontare questo ostacolo il gruppo elabora una cultura di gruppo caratteristica. Quindi la cultura di gruppo viene intesa da Bion come gli insieme degli aspetti del comportamento del gruppo che nascono proprio dal conflitto tra la mentalità del gruppo e i desideri del singolo. Quindi sono una soluzione a questo conflitto tra mentalità del gruppo e i desideri del singolo. Sempre in esperienze nei gruppi altri staggi leggiamo uso l'espressione cultura di gruppo in modo molto estensivo, vi includo la struttura che il gruppo raggiunge nei vari momenti, le attività che svolge e l'organizzazione che adotta. Tutto questo nasce appunto dal bisogno di mediarie tra mentalità di gruppo e desideri del singolo. L'insistenza con cui il gruppo chiede un capo è secondo Bion un ottimo esempio per ciò che intende con il termine cultura. Cioè che succede per far fronte agli ostacoli, per la soddisfazione delle necessità individuali, il gruppo utilizza il modello capo e seguaci. Questo è un esempio di modello che può utilizzare il gruppo. Il gruppo in questo schema diventa quindi un mediatore tra necessità individuali, mentalità di gruppo e cultura di gruppo. E quindi viene assunta la figura di un leader e ci si aspetta appunto da lui quasi una soluzione magica che si occupi di tutti i bisogni e che liberi il resto del gruppo dalla responsabilità di pensare. Questo appunto è un modo per risolvere il conflitto, è un esempio di modo per risolvere il conflitto tra mentalità di gruppo e necessità individuali. Per quanto riguarda invece le interpretazioni dell'analista da dare al gruppo, secondo Bion queste devono essere fornite con termini concreti, nel modo più completo e preciso possibile, senza fare alcun riferimento ai concetti teorici sui quali si fondano le valutazioni stesse dello psichiatra. Infatti Bion evita di usare i termini mentalità di gruppo, cultura di gruppo e così via, e cerca invece termini più semplici e più precisi. Infine l'effetto dell'interpretazione sul gruppo è mutevole, cioè l'effetto che dà l'interpretazione fatta dallo psicoanalista al gruppo è mutevole.